Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC regola la velocità e la distanza da un veicolo che precede riconosciuto. Dopo un controllo dei sensori radar effettuato con successo, il sistema di assistenza è disponibile nell'intervallo di velocità compreso tra 20 e 210 km orari. Il sistema di assistenza riduce automaticamente la velocità in caso di avvicinamento a un veicolo che precede. Se il sistema di assistenza riconosce che un veicolo che precede sta per arrestarsi, frena automaticamente il veicolo in modo confortevole fino all'arresto. Nella maggior parte delle situazioni non occorre frenare manualmente. Se la decelerazione del sistema di assistenza non è sufficiente, viene emesso un segnale di avvertimento. In caso di veicoli con sistema di assistenza al parcheggio attivo e pacchetto sistemi di assistenza alla guida, se il veicolo viene frenato fino all'arresto da sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC su strade a più corsie separate, entro 30 secondi questo può seguire automaticamente il veicolo che precede in fase di ripresa della marcia. Il sistema di assistenza DISTRONIC viene attivato premendo brevemente verso l'alto l'interruttore basculante. La visualizzazione della grafica dei sistemi di assistenza può essere attivata dal menu Assistenza del computer di bordo. Se il sistema di assistenza è attivato, la distanza minima di sicurezza impostata viene visualizzata sul display multifunzione. I segmenti illuminanti nel tachimetro rappresentano l'intervallo tra la velocità del veicolo che precede e la velocità memorizzata del proprio veicolo. Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC può non essere in grado di riconoscere altri utenti della strada che, ad esempio, viaggiano in posizione sfalsata. Il sistema di assistenza è soltanto un dispositivo ausiliario. La responsabilità per la velocità, la distanza e la tempestività della frenata è sempre del guidatore.